Sì, è una buona volta che la prossima è stata iniziata a fare il film con me. Non pensate mai al questo quando stavate a fare il film? Nooo! Questa uova è offente delle persone? No, no, no! È giocatore per me! È davvero giocatore. Tutti i produttori non vogliono più fare un film con me Perché avevano paura. al tribunale ha fatto venire un attore dice vivo io sto parlando con il cuore perché fai così è la verda